Applausi Con buon cuore Questi migranti che vengono Che scappano da dei posti Dove ci sono degli abusi Dove soffrono tantissimo Vengono gli date un rifugio Gli date accoglienza Vi prendete cura di loro Questo è meraviglioso E vi ringrazio per questo Applausi All'inizio della crisi Noi avremmo dovuto E comunque dobbiamo considerare Questi migranti, questi rifugiati Come se fossero i nostri fratelli E le nostre sorelle Che stanno affrontando Un periodo di grande crisi Di grande difficoltà E di grande pericolo E accoglierli a braccia aperte In questo modo A provvedere immediatamente A loro almeno un rifugio Dove potersi riparare Grazie a tutti Grazie a tutti